La lotta al brigantaggio, i bersaglieri e i garibaldi, la terza guerra di indipendenza, i bersaglieri e i garibaldi a Mentana. Dopo la sconfitta dell'esercito borbonico del 1860-1861, il re Francesco II tenta di restaurare la monarchia e con l'aiuto dei papalini organizza bande armate composte da veterani del suo esercito di profittatori, di avventurieri, di delinguenti, in una parola di briganti che avrebbero dovuto impedire l'insediamento dell'autorità italiana e riportarlo sul trono dei Borboni a Napoli. Il piano poggiava su fattori quali l'odio per i nuovi proprietari sfruttatori di mano d'opera, l'incomprensione delle leggi del nuovo Stato, che non apparivano italiane ma piemontesi, la protezione concesse da ecclesiastici ed aristocratici necessaria ai briganti per sopravvivere, ma condizionata dalla fedeltà al re di Napoli in esilio a Roma, dove era giunto a bordo di un piroscopo francese dopo la caduta di Gaeta il 13 aprile 1861. I briganti quindi non furono criminali comuni, ma un esercito di ribelli che all'infuori della violenza privata non conoscevano un'altra forma di lotta. Lo Stato italiano rispose con una vera e propria guerra a questa rivolta sociale che nelle sue manifestazioni durò quattro anni. Alle truppe già stanziate nel sud al comando del generale Gialdini, il governo ne aggiunse altre, cosicché nel 1863 ben 120.000 soldati erano impegnati nella lotta al brigantaggio, quasi la metà dell'esercito italiano. Bisogna recidere questo tumore a costo di amputare e le baglionette dei bersaglieri nella bisogna ebbero il coraggio del bisturi e soprattutto rappresentarono un perfetto strumento decisivo nelle mani della legge. Il modo di combattere dei bersaglieri ben aderiva alle caratteristiche della guerriglia e perciò li rendeva di gran lunga più idoni che non qualunque altra formazione. La loro abitudine di adeguarsi alle evenienze più disperate, la possibilità di meglio operare in piccoli gruppi, li rendeva mobili specie su terreni montuosi. Non è possibile qui menzionare tutti gli innumerevoli episodi che hanno visto protagonisti bersaglieri nella cattura dei briganti, ma rappresentali degnamente se ne cita uno. Si riferisce alla cattura del capo Branda Boreas, un famoso masnadiero spagnolo, ufficiale e nobile nella sua terra, che per vanità, ambizione e lucro non aveva esitato di capeggiare dolorose rivolte. Ebbe però di fronte un temibile e risoluto avversario, il Maggiore Enrico Franchini, comandante del primo battaglione bersaglieri, il quale, saputo che il Boreas è da poco transitato da Tagliacozzo senza perdere tempo, prese con sé una squadra dei suoi uomini. Di nottetempo risalì la montagna, regno dei briganti, trovò la banda serenata in una cascina e dopo aver deposto attorno ad essa un cerchio di fascine diede fuoco. I malviventi furono costretti ad uscire ed arrendersi. Tra i più famosi briganti sono da ricordare Carmine Crocco, detto Donatello, Luigi Alonzi, detto Chiavone, Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio, Pietro Domenico Straface, detto Palma, Giovanni Nicola Summa, soprannominato Nino Nanco. Anche alcune donne, fra le quali Maria Oliviero, detta Ciccilla, e Michelina di Cesare. Insofferenti di ozio, i bersaglieri si erano votati anche per questa via al sacro presidio della Padia, che si andava faticosamente riordinando e unificando. Nel 1865 il brigantaggio era stato praticamente sconfitto. Dopo Teano, Garibaldi si ritira a Caprera. La sua permanenza sull'isola, però, durerà poco. Infatti, già verso la fine di giugno del 1862, lo vediamo a Palermo accolto trionfalmente e in un violento discorso contro la Francia e il papato, riafferma la volontà di occupare Roma ad ogni costo. Il suo discorso infugato è interrotto da un popolano che urla o Roma o morte. Queste parole divennero il grido di battaglia nella marcia triunfale di Garibaldi lungo la Sicilia. In questa fase storica si verificherà che bersaglieri volontari sono schierati con Garibaldi e bersaglieri regolarmente arrolati sono inquadrati nell'esercito piemontese. I bersaglieri volontari di Garibaldi erano quei giovani che, carichi di ammirazione e di simpatia per i bersaglieri regolarmente inquadrati ed addestrati secondo i principi del fondatore, nonché spinti dagli stessi ideali maturati in quei giorni di fermenti patriottici, cercavano di imitarne il comportamento. Allo stesso tempo, affascinati dalla figura dell'eroe dei due mondi, lo seguivano nelle sue gesta. Lo Stato non sempre li riconosceva, ma dal volta li riforniva di armi quando era necessaria alla loro presenza sui campi di battaglia. Il nome dei loro reparti era preso spesso dalla zona geografica d'origine, così ci furono, solo per citarne alcuni, i bersaglieri lombardi, liguri, livornesi, oppure presero il nome dei loro comandanti e si ebbero il battaglione Mameli, Bronzetti, Burlando, Soldo, Farinelli, Menotti e Garibaldi. Passato in Calabria, Garibaldi punta verso Roma. Vittorio Emanuele II lo diffida, ma senza esito. Napoleone III fa energiche rimostranze. Urbano Lattazzi, capo del governo, decide di inviare Alfonso Lamarmora con molta truppa a Napoli per fermarlo. L'operazione viene affidata a Cialdini, che incarica il pallavicino con il suo primo reggimento bersaglieri di attaccare Garibaldi e distruggerlo. Lo scontro avviene sulle montagne dell'Aspromonte il 29 agosto 1862, da uno scritto del grande condottiero. Si apprende che in questa battaglia fraticida avrei potuto collocare, coperte dalle piante, le nostre catene di bersaglieri e con loro potevo rimanere io stesso. Tutto ciò poteva operarsi molto prima che le compagnie dei bersaglieri piemontesi marcianti nel bosco per prendici di fianco sulla nostra sinistra potessero comparire e prendere parte alla pugna. Io ordinai più volte a voce e con la tromba i nostri bersaglieri di non sparare. L'ordine mio fu ripetuto da tutti gli ufficiali della linea. Giunti a 200 metri cominciarono a fucilare d'inferno da parte dei bersaglieri che si trovavano di rimpetto a me. Dirigendo i loro tiri a me mi colpirono con due palle, una alla coscia sinistra non gravamente, l'altra al malleolo destro cagionandomi grave ferita. Anche il figlio Menotti è ferito e tra le file dei Garibaldini si conta una trentina di morti. I bersaglieri che avevano sparato su Garibaldi appartenevano al sesto battaglione e a due compagnie del 25esimo del capitano Macedonio Pinelli che aveva già incontrato Garibaldi a Talamone durante la spedizione dei Mille dove Garibaldi aveva approdato per fare il rifornimento e poi proseguire per la Sicilia. Ma ferire Garibaldi fu, come già detto, il tenente dei bersaglieri Luigi Ferrari. Lo stesso Pinelli, incaricato di scortare il convoglio che portava l'eroe ferito sulla nave Duca di Genova in partenza per la Spezia, dove il 12 settembre fu rinchiuso prigioniero nella fortezza di Varignano. E solo grazie ad un'opportuna amnistia gli fu concesso di tornare nella sua caprera. La ferita gli procurava forti dolori ed amarezza. Qualche mese dopo il chirurgo Augusto Nelaton, medico di Napoleone III, riuscì ad estrargli la pallottra. Per un anno fu praticamente immobilizzato. Quell'episodio rimane come un punto nero nella storia dei bersaglieri. In quei giorni, infatti, la gente ripeteva tristemente brucianti versi sul motivo di flick-flocco. Han ferito Garibaldi, l'han ferito alla Spromonte, bersaglieri chinati in fronte per vergogna di chi ferì. Ad aggravare l'onta fu la fucilazione di sette bersaglieri piemontesi che nel bosco della Spromonte avevano disertato per passare nelle file garibaldine con i bersaglieri volontari. Da una parte e dall'altra c'era la stessa Italia, la stessa patria. Eppure quei sette bersaglieri furono considerati traditori. I primi anni del nuovo Stato furono particolarmente travagliati. Sia per la difficoltà di fondare le diverse realtà istituzionali, sia per i problemi politici e di sicurezza. Primo fra tutti il brigantaggio nell'Italia meridionale, di cui si è già parlato. Comunque, l'unificazione nazionale rimaneva un miraggio di tutte le forze politiche. Bisognava cacciare gli austriaci dal Veneto. L'Italia nel 1866 pervenne ad una vantaggiosa alleanza con la Prussia, che sotto la guida del conte Otto von Bismarck, si apprestava la guerra contro l'Austria per realizzare l'unificazione della Germania ancora in gran parte dominata dagli Asburgo. L'alleanza con l'Italia fu molto vantaggiosa per Berlino, perché impegnò sul fronte meridionale parte delle forze imperiali. La terza guerra di indipendenza era iniziata e va dal 20 giugno al 12 agosto 1866. Anche in questa guerra i bersaglieri hanno tenuto alto l'onore delle armi italiane a fronte degli innumerevoli errori strategici compiuti dai comandanti in capo Cialdini ed Alfonso la Marmora. Nella primavera del 1866 i battaglioni bersaglieri vengono portati a 50 e sono distribuiti fra i reggimenti esistenti, di cui solo a una parte di essi sarà dato di gravitare nella zona principale della lotta e perciò di contribuirvi direttamente. Fra Cialdini e la Marmora c'è disaccordo sul piano strategico. Manca il coordinamento operativo, difettino i collegamenti, i bersaglieri non sono impiegati secondo le loro caratteristiche ma come fanteria. A tal proposito fa male pensare che Alfonso la Marmora è il fratello di Alessandro e queste cose avrebbe dovuto saperle. Fu un grave errore, motivi tutti questi dell'insuccesso dell'armata italiana nella battaglia di Custozza del 24 giugno 1866. Malgrado ciò i bersaglieri conseguono altri primati, i primi dei primi nell'avanzare, gli ultimi degli ultimi nel retrocedere, i primi ad attaccare il nemico ed a rinventare le avanguardie. A Custozza sono i bersaglieri del quinto battaglione. La prima bandiera strappata di mano al nemico è per merito di un bersagliere, Matteo Orlandi, che era già ferito. La settima la sedicesima divisione piemontese, scherata e inquadrata a Villa Franca, dicevano l'urto travolgente di un'intera divisione di cavalleria nemica, ma i bersaglieri del diciannovesimo battaglione scattano per primi e arrestano la carica della cavalleria austriaca, che con enormi perdite volta la schiena ai bersaglieri e il gran numero di dragoni sono fatti prigionieri. In questa occasione i bersaglieri avevano tenuto ben conto degli insegnamenti di la marmora. Un bersagliere con baglionette in canna ed esercitato in quella scherma non teme di combattere tre soldati a cavallo. I bersaglieri del 34esimo battaglione sono i primi ad entrare a Custozza, a occuparla e a inseguire il nemico, sfruttare il successo inseguendo l'avversario. Dopo alcuni giorni Custozza è rioccupato dagli astruici e i piemontesi sono costretti alla ritirata. L'armata italiana è logro e disorganizzata e quando ripiega sono i bersaglieri retroguardia che attaccano ripetutamente l'imbandanzito austriaco arrestandone l'avanzata. Malgrado l'impegno e l'addore l'armata italiana ripassa il mincio. Custozza per la seconda volta è fatale all'esercito piemontese. A luglio si riprendono i combattimenti e sono i bersaglieri del 23esimo 25esimo battaglione che attaccano per primi ottenendo dei successi. Mentre le truppe di Cialdini a sud e quelle di Garibaldi a nord sulle Alpi, episodio del cerebre obbedisco a Bezzecca, procedono vittoriose verso Trento per ordine del re le operazioni vengono arrestate perché dopo la grave sconfitta subita dagli austriaci il 3 luglio 1866 a Sadova, Bohemia, Repubblica cieca da parte della Prussia, l'Austria era stata costretta all'armistizio che il 12 agosto 1866 fu firmato a Cormons. Con il successivo trattato di pace di Viena del 3 ottobre 1866 firmato dal generale italiano Luigi Federico Menabrea e dal generale francese Emmanuel Felix de Wimpen, il Veneto è ceduto all'Italia tramite la Francia. Non purtroppo il Trentino è la Veneggia Giulia che ci prenderemo con la prima guerra mondiale del 1915-1918. Dopo la terza guerra di indipendenza, Garibaldi continua la sua azione patriottica diretta a fare di Roma la capitale d'Italia. Il progetto pone in allarme il governo italiano e Napoleone III, il quale da sempre fa i garanti della sovranità del Papa, visto che i propositi di Garibaldi erano seri, prepara un corpo di spedizione per la difesa di Roma. A questo punto Rattazzi fa arrestare Garibaldi che viene accompagnato a Caprera sotto scorta, ma egli elude la sorveglianza e riesce a raggiungere Livorno e successivamente Firenze, già capitale d'Italia dal 1865, dove suscita nuove entusiasme e arruola volontari, buona parte dei quali, anche questa volta, è composto da bersaglieri. I tre battaglioni a comando di Stallo, Bulland e Missori. Spera in una sollevazione di Roma per opera dei fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, che però viene repressa a Villa Glori, dove morì Enrico Cairoli il 23 ottobre 1867. Nonostante la ribellione non sia riuscita, Garibaldi marcia su Roma con 8.000 volontari ed a Monte Rotondo sconfigge le truppe pontifice il 25 ottobre 1867. Il 28 ottobre sbarcano a Civita Vecchia 25.000 francesi ed entrano subito in azione. Anche le truppe piemontesi passano il confine pontificio. La situazione dei Garibaldini diventa difficile, specialmente per la superiorità dell'armamento del nemico, i famosi Chaspo, francesi e l'istituzione dei pontifici. Affrontata a Mentana il 3 novembre 1867, Garibaldi sostiene l'imperi lotto con alterne fortune. Al grido alla baionetta i tre battaglioni bersaglieri e i gruppi di volontari riconquistano Mentana e inseguono il nemico. Ma l'improvviso sopraggiungere di due battaglioni freschi del primo reggimento francese determina il rovesciamento della situazione ormai divenuta incontrollabile. Scrisse Carducci, la campagna del 1867 è tra le nobilissime guerre italiane la più larga forse nell'idea, la più alta nel motivo e la più feconda di conseguenze civili e umane. La presa di Roma dovete attendere altri tre anni. Con questo argomento termina il non incontro con la storia d'Italia.